ecco qui come ho sistemato Alice poi non so se la ragazza che la riceverà le cambierà il nome comunque le ho messo questa copertina qui che me l'ha data mia madre questa è fatta a mano è molto bella penso che l'abbia fatta o mia nonna o mia zia ce l'ha fatta apposta per l'occasione molto bella poi qui ci ho messo un nastrino per tenerla ferma ho incartato la faccia ho questa bellissima carta poire il suo outfit è di come mi arrivò a me la prima volta quindi ha indosso un pagliacetto sui toni del rosso però è abbastanza estivo perché appunto ha le gambine scoperte come potete vedere e poi le ho messo dei calzettini bianchi quindi la bambola arriva vestita e niente le manine non le ho imbustate tanto alla fine sono coperte dalla telina poi qui dentro c'è un pupazzettino carino un cagnolino e poi questa telina rosa che chiuderò prima di spedire la bambola allora queste sono tutte le cosine che ho scelto da mandare a Sofia perché si chiama così la ragazza che sta acquistando la mia Alice allora per prima cosa vi faccio vedere due vestitini estivi che ho scelto per lei allora il primo è questo qui di OVS ha tutti questi cuoricini bianchi a righe sui toni del fucsia ed è bellissimo secondo me ha la manichina a tre quarti che comunque non si vede la stoffa perché se sotto ci metti il body a manica corta è perfetto quindi non si vede assolutamente la stoffa ed è veramente bellissimo quindi questo è il primo in abbinamento da H&M un altro vestitino questo è molto più semplice però non so se riuscite a vedere ha tutti questi poa colorati però il vestitino è bianco ha questo risvoltino qui e magari con un leggings sotto ci sta benissimo la manica è lunga quindi assolutamente la stoffa non si vede poi il vestito è lungo quindi anche la stoffa vicino alle gambine non si vede perciò è veramente perfetta questa vestita per le Reborn ed è appunto di H&M poi per l'inverno invece perché voglio dire la bambola la vendo in estate ma chiaramente la userà anche in inverno ho pensato di metterle anche queste deliziose scarpine che queste non si mettono direttamente sul piedino del bambino ma si mettono sopra la tutina quindi sono abbastanza grandi ovviamente sono più grandi del piedino della bambola però ci stanno perfettamente le avevo già provate su di lei e le stanno un amore e sono tipo di lanetta qui vicino bianca e poi c'è tutta la parte di spugna rosa e queste sono troppo belle poi sempre per i piedini ho scelto queste calzine qui bianche con i toni del rosa là sopra quindi vicino alle caviglie e c'è una scritta in francese che non vi leggerò per evitare figurati ovviamente però sono veramente bellissime sono queste qui poi per i capelli avrà questa fascettina qui con queste roselline quindi questo fiocco a roselline è veramente bellissimo questo e questo cappellino che se non sbaglio è di prenatal no della coin vabbè comunque è rosa anche questo e le sta benissimo tra l'altro ho pubblicato una foto su Instagram di lei con questo cappellino ed un vestitino stupendo che ho messo anche per Sofia quindi ora ve lo faccio vedere quindi questo cappellino e il vestito con cui avevo fatto la foto per Instagram è questo che è stupendo ha una camicetta praticamente attaccata a una specie di salopette a forma di vestito tutta rosa questo è in vellutino quindi comunque non è estivo come vestito poi è bianco con tutti i fiorellini delicatissimi disegnati qui sulle maniche e ha il colletto si chiude perfettamente attorno al collo quindi non si vede la stoffa ed è stupendo questo è il retro vedete è proprio come fosse una salopette però è incollata non è a body ha il doppio strato è veramente stupendo questo vestitino mi era stato regalato da una mia amica e ovviamente ho deciso di lasciarlo per Ellis quindi questo qui poi ovviamente un pannolino questo qui è di Pampers se non sbaglio o dell'Hardis non mi ricordo comunque è nuovo un bodino non ve lo apro tanto è un bodino semplice ha un tipo un gufetto qui disegnato tutto rosa questo è d'OVS poi da HM questa tutina stupenda veramente bellissima tutta leopardata sui toni del rosa e fucsia e ovviamente anche un po' di nero ed è lunga questa è una taglia 56 cm uno o due mesi perché comunque Ellis come bambola è abbastanza grandina non è come Sofia è come Samuel che ovvio sono veramente piccolini quindi questa è proprio apposta per lei qui ci sono i pieghini ed è una tutina in ciniglia appunto apposta per l'infanzo inverno perché comunque come corredino ho pensato di metterle un po' di tutto quindi questa è veramente molto carina secondo me poi il ciuccio gliel'ho messo in questa confezione rosa in modo che si diverte anche ad aprire un po' i pacchietti questo è di chicco ed è sui toni del lilla quindi non è proprio rosa ma è violetto chiaro ha lo scudo bianco con una coccinella e vari fiorellini voi non state vendendo niente però è già magnetizzato insomma tutto quanto quindi il ciuccio della chicco poi un completino composto da questa magliettina bellissima non c'è come la scritta piccola spiritosa e questa qui è tipo azzurrina in verde acqua molto bella queste cose sono tutte da stirare e poi questi jeans sono veramente teneri hanno questi disegni sul davanti che sono tipo delle rose sono proprio piccoli e poi la grandezza quindi la misura del pancino è regolabile perché all'interno ha tipo gli elastici quindi è pensata per un bambino che poi ingrassa che comunque diventa grande invece ovviamente per le reborn questa è la misura adatta gliel'ho già sistemati in modo che gliel'hi può già mettere così e quindi la bambola ve l'ho fatta già vedere è già tutta vestita impacchettata adesso ci divertiremo a preparare i pacchettini questa è la carta che ho preparato che è troppo carina e ha tutte le apette insomma è tipo da bimbo quindi è molto bella cominciamo subito grazie a tutti 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 I pacchetti, come avete visto, li ho incartati uno a uno. Non sono riuscita a mettere i nastini perché mi sono resa conto dopo che erano un po' troppo corti per il pacco. E adesso proveremo ad incastrarli tra i vari spazi. Vorrei trovare anche una soluzione per coprire meglio il viso, perché ho paura che si possa schiacciare durante il trasporto. Quindi adesso vedremo. Allora, come prima cosa ci metto dentro il ciuccio. Lo metto qui accanto a lei. E le scarpine, perché sono una cosa che non ha scatolina, quindi le metto così accanto. Poi, primo pacchettino, già non ricordo più come ho messo le cose. Secondo, gli infilo tutti ad incastro, non so se riuscite a vedere bene. Poi qua mettiamo gli altri. Bene, guarda che mi manca. Questo qua che è più sottile, lo metto proprio in faccia, così evitiamo che si rovini. Uno glielo metto qui. E l'altro qui. Allora, la bambola è terminata. Adesso metto la velina in questo modo, come a chiudere, diciamo, questo mega pacco. E procediamo con la chiusura. Allora, dovrò schiacciare un po' tutto. Per fortuna la bambola è ben coperta e non subirà urti. Ed ecco qui, che anche Alice è chiusa. Ovviamente, quando andrò in posta, chi spedirà il pacco provvederà a metterla in un'ulteriore scatola. Quindi adesso la chiuderò, diciamo, io alla buona e poi, quando vado in posta, me la chiuderò loro. Grazie. 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 Grazie.